Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'alta pressione continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando condizioni di stabilità e bel tempo prevalente su gran parte d'Italia, seppur con correnti un po' più umide nei bassi strati da ovest, che infatti porteranno un aumento della nuvolosità, in modo particolare sui versanti terrenici, ma anche al nord, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa. Vediamo infatti la grafica che ci mostra una giornata di venerdì all'insegna del bel tempo prevalente sull'arco alpino, ma anche sui versanti adriatici e sulle isole maggiori, mentre una maggiore copertura nuvolosa è attesa tra la Liguria, il Medio Alto, il versante terrenico, qui con qualche goccia di pioggia possibile. Un po' di nuvolosità anche sulla Valpadana, con temperature che tenderanno a calare, ma rimarranno sopra le medie del periodo. Il clima invece sarà particolarmente mite sulle isole maggiori con punte anche di 20 gradi, ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di Trabi Meteo.